Ben ritrovati amiche e amici, l'editoriale. Questo martedì 24 maggio, la redazione, noi tutti vi ringraziamo della vostra attenzione, come vi ringraziamo per le numerose mail che giungono tramite l'indirizzo lecodichiociolibero.it e quindi riguardanti il settimanale più letto di Acquaviva delle Fonti, che in edicola ogni sabato mattina e quindi anche le mail indirizzate alla nostra emittente televisiva telemaigchioccioalibero.it Eh che bella la nostra cittadina, noi abbiamo un grosso problema di legalità, di legittimità. Se si parla di legalità, di legittimità in una comunità, diventa indispensabile che tutti gli attori istituzionali possano avere tutti i sensi ben al massimo, a sensibilità elevatissima. Perché? È come quando siamo in un gruppo, quando si decide di andare a fare una scampagnata, quando in una famiglia si decide qualsiasi iniziativa, ognuno ci mette del suo. E quindi chi dimentica di portare l'acqua c'è l'altro che glielo ricorda. Se c'è il figliolo che ha dimenticato di prendere l'asciugamani, c'è il papà che glielo ricorda. Insomma, come una grande famiglia e una grande comunità, le istituzioni dovrebbero essere organizzate alla stessa maniera. Ognuno ha il suo potere, ha il suo dovere, ha le sue competenze. C'è chi ha un buon tonno istituzionale, mette al primo posto il dovere e tralascia il potere. Perché è così intelligente da comprendere che se c'è dovere si acquisisce autorevolezza e quello è il vero potere. Cioè essere considerati positivamente dall'altro. Non perché si sta ricoprendo quel ruolo, ma perché si è considerati, si è ritenuti dall'altro indispensabili, utili, autorevoli, indipendentemente dalle 15 lauree che si posseggono, indipendentemente dalle volte che si è ricoperto quel ruolo istituzionale, indipendentemente dalla forza politica che si sta rappresentando, se parliamo di comune, di regione, di città metropolitana, di Parlamento, insomma di altre istituzioni. Abbiamo anche quei poteri, quelle istituzioni che poi devono vigilare, controllare. Ecco, tutte quante insieme devono svolgere al meglio il loro ruolo che a me e a noi tutti piace considerare dovere. Perché noi ci rivolgiamo anche magari all'ufficio postale e siamo convinti e riteniamo che chi si allia allo sportello lo faccia e si comporti bene e al meglio svolge la sua attività lavorativa perché sente il dovere di farlo, che ci auguriamo lo faccia con passione e poi per lo stipendio che riceverà a fine mese. Ecco, e allora come ci si rivolge alle poste, come ci si rivolge a un ufficio comunale, come ci si rivolge a un ufficio regionale, della città metropolitana? C'è sempre qualcuno dall'altra parte che rappresenta il sistema pubblico, le istituzioni, la politica, l'organizzazione, del comune e che ci dovrebbe dare la garanzia che quello che si sta realizzando, che l'opera che sta svolgendo viene eseguita secondo criteri rispondenti fedelmente alle norme, alle leggi e che quindi gli atti che poi sono prodotti rispondono fedelmente a quella giurisprudenza che il legislatore ha voluto e che fanno riferimento tutte queste norme sicuramente alla Costituzione italiana e quindi ci danno la garanzia di essere cittadini che partecipano democraticamente alla propria comunità secondo delle norme, delle regole che sono costituzionalmente valide e degne di rispetto e quindi anche noi come cittadini ci sentiamo in dovere di rispettarle e quindi non all'occorrenza. Può essere come il parcheggiare davanti a un passo carrabile, vabbè adesso a me serve che devo andare al tabaccaio a prendere il pacchetto di sigarette o altro, se non lo prendete il pacchetto di sigarette è meglio perché nuoce gravemente alla salute ed è scritto anche sullo stesso contenitore, ma comunque posso andare a ritirare un francobollo, posso andare a ritirare una busta, posso andare a ritirare qualsiasi altro prodotto commerciale da qualsiasi attività e quindi un paio di minuti, il tempo di entrare e uscire, parcheggio davanti al passo carrabile, allo scivo dei disabili, in seconda fila, sulle strisce pedonali e chi se ne importa poi se deve attraversare la persona anziana, il bambino, un mio parente e poi succede qualcosa perché non è stato visto a causa di questo mezzo che ha occupato la visuale dell'automobilista che giungeva e percorreva quella strada. Insomma, se ognuno di noi sente il dovere di rispettare le norme, le leggi, è degno di essere cittadino con la C maiuscola, attivo e protagonista della propria comunità, come degno di essere un dipendente pubblico, come degno di essere un sindaco, degno di essere un assessore, degno di essere un consigliere comunale, degno di essere un consigliere regionale, degno di essere un dirigente di un comune, di una città metropolitana, di una regione. Insomma, siamo certi che se si rispettano queste norme, se si sente questo dovere, se si svolge il proprio ruolo secondo questi criteri, avendo questa sensibilità e i nostri sensi al massimo della sensibilità appunto, siamo sicuramente degni. E allora, se noi siamo degni di essere cittadini della comunità di Acquaviva delle fonti, dobbiamo mettere a disposizione la nostra ragione, le nostre osservazioni, la nostra cultura, il nostro fiuto, il nostro udito, il nostro parlare. E per quello che mi riguarda il mio mestiere è, attraverso questo appuntamento, comunicare, e per questo vi ringrazio, mentre voi siete nelle vostre abitazioni, quelle comunicazioni, quelle notizie che ritengo utili, indipendentemente dei sottofondi che si possono ascoltare in una redazione, dove i collaboratori stanno più o meno attenti. E allora, nel momento in cui c'è una redazione che ha anche i suoi sensi, la sua dignità, è opera, perché si chiama emittente televisiva Telemaig, per dare il giusto contributo alla comunità che rappresenta, in questo caso Acquaviva delle fonti e non solo, naturalmente, e ci si sente un po' offesi da questi signori che rappresentano le istituzioni a livello locale, che non ottemperando a quanto previsto dall'articolo 8 dello statuto comunale, preferiscono andare in altri lidi, mancando quindi di fare il loro dovere a casa propria. Ecco, la nostra emittente ha più volte invitato il sindaco e gli assessori, più volte nelle persone, quindi sempre invitando continuamente le stesse persone e anche le diverse persone che si sono avvicindate, perché, come ben sappiamo, gli assessori sono cambiati più volte. E mai questi signori, tranne qualche mosca bianca, ha ritenuto di dover dare la propria disponibilità a sottoporsi alle domande di un giornalista. Ora, domande intelligenti, domande stupidi, domande piccanti, domande prive di senso? Domande. Ad ogni domanda si può rispondere in maniera semplice, in maniera naturale, certamente non costretti dall'altra persona. E allora comincio a pensare, ad essere convinto che non si voglia partecipare a questi incontri, a questi confronti televisivi, a queste interviste, solamente perché non si sa cosa rispondere. Solamente perché non si conoscono bene gli argomenti. Solamente perché forse si è il timore di avere dall'altra parte persone che ne sappiano più di loro, perché non ci sono altre giustificazioni. Ma non perché chi pone le domande è più intelligente, è più bravo. Semplicemente perché prima di porre le domande magari ci si va a leggere la documentazione, come può essere quella, ad esempio, del centro storico. Ben sappiamo che l'assessore Mastorocco, facente parte della giunta del sindaco Squiccerini, a suo tempo ha predisposto il progetto del centro storico, ha dovuto presentare quel progetto per poter ottenere dei finanziamenti. Quindi ben sappiamo che se oggi Acquaviva ha una nuova pavimentazione, ha un nuovo centro storico, ben sappiamo che il grazie, bisogna dirlo esclusivamente a Squiccerini e alla sua giunta. come ben sappiamo che i lavori che sono stati eseguiti sono stati realizzati durante la giunta Carlucci e ben sappiamo che se qualcosa non ha funzionato la responsabilità non è di chi ha predisposto il progetto, ma di chi lo ha dovuto mettere in opera, di chi avrebbe dovuto controllare l'esecuzione dei lavori, di chi avrebbe dovuto vigilare, di chi avrebbe dovuto fare tutte quelle variazioni, chiamate in campo urbanistico varianti, utili alla collettività, senza ombra di dubbio, non certo utili al singolo soggetto, al singolo residente, al singolo commerciante. Nel momento in cui si organizza in malo modo, come al solito, è una caratteristica di questa amministrazione, una inaugurazione che attraverso dei manifesti sarebbe dovuta avvenire in una data, il 20, viene pubblicizzata il 20 e poi invece la si realizza il 22, la prima domanda spontanea che nasce è abbiamo un sindaco giornalista perché non ha organizzato una conferenza stampa? Perché noi ben sappiamo che i giornalisti hanno la necessità di avere tutte le informazioni utili, indispensabili per poter realizzare proprio attraverso la propria penna, attraverso la propria vena, chiamiamola artistica perché lo è, un giornalista è anche un artista, il pezzo da pubblicare o il servizio da mandare in onda in un'emittente televisiva che possa essere telemaico, possa essere qualche altra, in un'emittente radiofonica, su una piattaforma web, su una testata telematica quindi o sul proprio profilo Facebook, di tutto e di più, invece questa amministrazione comunale che ha un sindaco giornalista che ben sa come si organizza una conferenza stampa, non lo fa. Allora non facendolo si viene meno a quello che è scritto nello statuto comunale, che chiede e impegna gli amministratori a dare a tutti i cittadini una informazione tempestiva ed esauriente, ma l'informazione tempestiva ed esauriente deve essere data a tutta la comunità, a tutti i giornalisti. Chi non partecipa è assente, giustificato, è assente e si arrangia. Diventa invece non corretto magari fornire le informazioni al fratello, al cugino, al conoscente, all'ex collega, diventa veramente non corretto, diventa veramente non rispondente allo statuto comunale il gestire un'informazione che è di esclusiva ed evidente natura pubblica in maniera evidente e privata. Ma indipendentemente da tutto questo che fa parte della legalità, della legittimità, di quella cultura, di quel modo di fare a cui mi riferivo in apertura, si deve far riferimento ad alcune caratteristiche, quale possono essere l'arroganza, l'umiltà, la dignità, che non possono essere tralasciate quando si rappresentano una comunità, un'emittente televisiva, un'associazione, una famiglia, un partito, un'associazione, qualsiasi, sì, prima di tutto la dignità. E allora nel momento in cui gli industriali scrivono Confindustria scrive, Confcommercio scrive, Confartigianato scrive, CNA scrive, tutti quanti insieme scrivono, guardate un po' la stessa cosa, scrivono che hanno appreso dell'insediamento della consulta comunale delle attività produttive della nomina del relativo Presidente avvenuta il 16 marzo scorso. Constatiamo con dispiacere che i partecipanti sono stati appena 3 su 24 e non vi leggo il resto perché l'ho già fatto sabato scorso. Alla fine dicono che il danno economico che le attività produttive stanno subendo per l'assenza di una politica industriale, artigianale, commerciale e agricola nella nostra città, da noi sempre evidenziata, è incommensurabile. Come dicono che quell'insediamento è privo di validità. E allora se noi stiamo parlando quest'oggi di legalità, di legittimità degli atti e quindi ci dobbiamo per forza di cose collegare alla trasparenza degli stessi atti e al fatto che questi signori rappresentanti delle associazioni di categoria hanno scritto anche a Sua Eccellenza il Prefetto di Bari, diventa strano, assurdo leggere sul sito del Comune di Acquaviva delle Fonti che il venerdì 3 giugno alle ore 15 è stata convocata la consulta delle attività produttive. Dobbiamo ridere, non so che altro atteggiamento tenere per rappresentare questa nostra scoperta, se l'atto è valido, quello dell'insediamento, quest'ulteriore convocazione è valida, ma se l'atto dell'insediamento, se la procedura che ha portato all'insediamento è nulla, è naturale che tutto il resto non è valido. E allora se il Presidente in questo caso, Porzia Vitali, è stata votata attraverso una procedura non legittima e quindi quella procedura è nulla, come può il Presidente sottoscrivere un documento di convocazione e firmandolo come Presidente? E allora riteniamo che ci sia un problema grave in questa comunità e quando ci sono i problemi gravi in una comunità, è giusto che i cittadini possano sperare, augurarsi che vi sia un altro organo, come in questo caso chiamato in causa la Prefettura, che possa andare a guardare le carte, che possa dare dell'indicazione agli amministratori e perché no fare un corso di formazione agli stessi amministratori, che oltre a giurare fedeltà nella nostra istituzione, sulla nostra Costituzione e quindi sulla nostra bandiera, dovrebbero fare un po' di formazione. Ma io aggiungo di più, io avrei chiesto un parere al mio ufficio legale, io parlo così a livello generale, io amministratore ho un ufficio legale, il Comune ha un ufficio legale, avrebbe dovuto chiedere il Sindaco un parere, ma la stessa amica Porzia Vitali, per porsi in una posizione di trasparenza, di legittimità, di giusta rappresentanza della consulta, avrebbe già dovuto chiedere un parere legale all'ufficio legale dell'ente, perché lei rappresenta un'organizzazione che fa parte dell'ente del Comune di Acquaviva delle Fonti. Allora ci saremmo aspettati una pubblicazione all'albo online in cui avrebbero detto che c'è stata la richiesta di questo parere e che il parere avrebbe eccetera, eccetera, invece no, non c'è nulla di tutto questo. E quindi noi partecipiamo a Bari con spirito di solidarietà nei confronti del Sindaco De Caro per i noti fatti accaduti e per dirgli che vogliamo la legittimità, vogliamo tenere alta l'attenzione delle istituzioni e ben distinguerci dalle marachelle e dagli atti illegittimi, dalla illegittimità istituzionale e poi invece verifichiamo che c'è un atto, quello dell'insediamento della consulta, che secondo queste sigle è nullo. E se è nullo quell'atto sono nulli tutti gli altri, altri conseguenziali. Ma sull'eco di Acquaviva, oltre a parlarvi di questo, chiedo alla regia se abbiamo ancora qualche minuto a disposizione perché la Clessidra ha terminato la sua corsa, ne abbiamo un altro paio. Vorrei capire, via piano, che da Fiorente è diventato un deserto, ma nessuno se ne è accorto. E quante centinaia e migliaia di persone che passano di là? Si tratta di incuria amministrativa che provoca lo spreco di risorse pubbliche? Probabilmente sì. Sono stati spesi dei soldi, messi a disposizione dal GAL, messi a disposizione da chi? Tramite la regione li ha messi a disposizione del GAL, il GAL poi li ha spesi per il comune di Acquaviva delle Fonti, insomma l'area dei pozzi di via Piano, non di via Curto Martino, quella zona d'Ucchiana. E che caspita, andate a scrivere come lo scalare, che fesseria avete scritto nella leggenda dello scalare, non ve la prendete col collega Francesco, che ben attento e serio, tanto da essere tanto capace e indipendente di avere l'ardire di fare qualche critica verso questa amministrazione comunale. Non riesco ne più a deglutire bene quando dico comunale, c'è proprio qualcosa di questo comune, non è bello lineare, c'è qualcosa che non va, io mi auguro che al più presto qualcosa di trasparente succeda in questo comune, perché fino ad oggi non lo abbiamo visto, come per i lavori del centro storico, come i lavori delle acque reflue. Allora, questi soldi spesi per Ucchiana, dove hanno fatto degli orticelli, dove hanno messo delle piante, che fini hanno fatto? Perché andare a distruggere tutto? Solamente perché l'erbaccia era diventata così alta, incuria, mal amministrazione, incapacità di governare e io mi auguro che colui il quale ha fatto quello spreco di risorse pubbliche metta le mani nelle sue tasche private e porti quei soldini che sono stati buttati dalla finestra al comune, al gal, alla regione, affinché si possa rifare il tutto, quell'orticello e riportare quel via piano a Fiorente. Concludiamo quindi così questo nostro appuntamento ricordandovi che quel centro storico è stato voluto dall'Aggiunta Squicciarini e dall'assessore Mastro Rocco e dall'intera giunta e dall'intere forze politiche che a suo tempo governavano, ma con una chicca, non realizzato in quella maniera e non variato in quella maniera e non tra virgolette abusato in quella maniera. Grazie, alla prossima occasione. Grazie a tutti.